Gianni Varese ha riscoperto con il padre, produttore di grano, il valore del grano antico, ben 15 anni fa. Abbiamo proprio riscoperto questo grano perché porta beneficio al nostro organismo, riesce ad avere comunque, a mantenere comunque un buon gusto, una volta leggerezza e digeribilità. Ivana, stilista, ha fatto del connubio tra moda e agricoltura la sua carta vincente. Quest'abito è fatto in seta, nello specifico in seta non violenta. La seta che viene fatta senza uccidere il baco da seta. Gianni e Ivana sono due dei giovani protagonisti di 11 start-up che presso la sede di IMEI Caputignano hanno fatto conoscere ad imprenditori e potenziali investitori le loro idee di impresa, già prototipi e quindi pronte ad andare sui mercati. E il risultato di Fooding, percorso di accompagnamento iniziato a febbraio scorso con l'Istituto Agronomico di Valenzano e la Camera di Commercio di Bari, servito ad apprendere le strategie e le tecniche di business. Ci è servito molto perché ci sta dando quello spunto giusto per riuscire ad arrivare meglio ai consumatori. Idee nuove e innovative come Vineway, primo sito online che consente ad un cliente di seguire e personalizzare la produzione di vino, oppure la produzione di paparina tipica salentina, che i giovani di secrì hanno avviato in una struttura della parrocchia abbandonata da 10 anni, un tempo comunità di recupero per tossicodipendenti. L'ultima tappa che stiamo organizzando per settembre è chiedere agli investitori di supportarla. Molto spesso servono veramente microfinanziamenti che però può aiutarli a far crescere questa idea e questo significa lavoro.